Nuovo cambio di rotta per le etichettature obbligatorie dei prodotti in vendita sui banchi degli alimentari. L'Europa ha dettato una revisione della normativa che è stata illustrata agli operatori della provincia di Sernia nella sala convegni della Camera di Commercio da alcuni esperti provenienti dal Piemonte. Le novità sono quelle che entreranno in applicazione a dicembre 2014 e siccome la norma italiana è stata molto pignola le aziende possono dire che possono essere serene perché avranno poche cose da cambiare in etichetta. Un aspetto interessante è quello dell'altezza dei caratteri. Oggi troviamo delle etichette scritte in maniera molto piccola quindi se non con una lente di ingrandimento il povero consumatore non riesce a capire che cosa sta per acquistare. Invece la norma europea finalmente impone un'altezza dei caratteri, il colore anche delle scritte che devono avere un risalto e un contrasto rispetto allo sfondo delle etichette. Questo è uno degli aspetti che aiuterà il consumatore a scegliere il prodotto più giusto per le proprie esigenze. E poi avremo ancora qualche anno, il 2016, per entrare anche in applicazione l'aspetto dell'etichettatura nutrizionale che oggi è facoltativo e grazie a questo regolamento dal 2016 diventerà obbligatorio. Poche altre le novità, ci aspettiamo ancora qualcosa sull'origine. L'Italia ovviamente è uno dei paesi che sostiene che l'origine sia obbligatoria in etichetta perché insomma siamo orgogliosi dei nostri prodotti nel mondo, però ad oggi il regolamento ha gettato delle basi diciamo interessanti ma sono al condizionale. Quindi fino a dicembre ci aspettiamo i decreti attuativi che imporranno regole più precise. Il consumatore può fidarsi dell'etichettatura, c'è qualcosa che lo garantisce? Diciamo che è un buon produttore, sa che ci sono delle regole, delle leggi e che tutto quello che scrive in etichetta deve essere prima di tutto al di là di qualsiasi norma veritiero e documentabile, quindi ci dobbiamo fidare della loro buona fede.